Sembrava il profeta Ezechiele. Aveva una barba biblica, inestricabile come un roveto ardente, mani da fabbro ferraio e occhi da brigante buono. Tutto il suo fisico parlava. Portava stampata addosso l'agilità del camoscio, l'impazienza di darsi da fare, un altruismo febbrile ma senza ingenuità. Era la quintessenza dell'anima montanara, quella speciale dei biellesi. Era figlio della più grande scarpata d'Europa, la muraglia che, poco a Monte di Biella, si impenna per 4.000 metri sulla linea d'urto che, milioni di anni fa, aveva generato le Alpi. Una faccia antica, da profeta Ezechiele. Un albero genealogico vivente. Fu così che lo vidi la prima volta. Francesco Bider, operaio tessile, mi impressionò, prima ancora di aprir bocca. Ero andato a parlare della guerra in Bosnia, nella sua città, e lui, ruvido Robin Hood, fece domande toste, che indicavano, come nella sua anima, quello fosse un tema digerito con sofferenza. Mi piacque. Era diverso da tutti gli altri e lo invitai a cena per continuare il discorso. Ci fu sintonia su una cosa. Il pacifismo non bastava. Che pacifismo era quello che non consentiva alle vittime di difendersi. Che roba era quel restare a guardare. Cosa, se non l'inerzia, l'incredulità e il silenzio degli innocenti, aveva consentito a una miglioranza di assassini e ladri di imporre una guerra a una maggioranza disarmata e pacifica. Per questo motivo mi ero scontrato con dei pacifisti. Per questo motivo avevo inclinato persino delle vecchie amicizie. Lui, cristiano tutto d'un pezzo, disse che la guerra contro i musulmani, quelli moderati di Bosnia, erano stati le prime vittime di un conflitto benedetto anche dai religiosi cattolici e pope ortodossi. Era un'onda aggressiva destinata a durare qualcosa di anomalo e di analogo a quanto è accaduto agli ebrei. Il massacro di Sebrenica, o Sebrenica, in cui migliaia di musulmani, complici l'Europa e il mondo, furono scannati nella più atroce ecatombe europea dopo il 1945. Non era ancora avvenuto, ma lui già leggeva gli eventi come inizio di un'onda lunga, l'avvio di uno scontro che sarebbe durato chissà quanto. Il suo discorso era lucido, pieno di intrisseca coerenza. Mi rimase impresso a lungo. Non ci sentimmo per quattro anni. Riapparve nella primavera del 99, ai primi segni della crisi Kosovara. Quando le milizie serbe di Milosevic, le stesse della Bosnia, iniziarono la pulizia etnica contro gli albanesi, in maggioranza musulmani, della provincia ex Jugoslava del Sud. Mi cercava perché in un mio libro dedicato alla guerra aveva trovato tracce della nostra chiacchierata. C'era scritto che se il male era banale, come diceva Anne Arendt, il bene era imbecille, incapace di organizzare un minimo di autodifesa. Era complice dell'orrore con la sua impreveggenza. Scrisse lettere, telefonò, disse che non si poteva restare con le mani in mano. Era scandalizzato dell'assenteismo dell'Europa di fronte a una tragedia simile alla guerra civile spagnola. Allora i democratici si indignarono e partirono per dare una mano. Oggi nessuno rischia più la vita per una causa. Spiegò che se non avessimo aiutato quei musulmani europei avremmo dato spazio all'islam estremo, accelerando uno scontro frontale tra occidente e oriente. Voleva fare qualcosa di importante. Capiva che la radice del male stava a Belgrado, ma a Belgrado stava anche la chiave della soluzione del conflitto. Un'alba tornai dal Montenegro, dove ero andato a monitorare per la Repubblica i primi bombardamenti della Nato sulla Jugoslavia, e lo trovai ad aspettarmi sotto l'ufficio. Piovigginava, avevo ancora con me le valigie. Il portiere mi disse che c'era un tipo strano che mi aspettava in macchina da giorni. Pensai, Francesco Bider, da Biella. Difatti era lui. dormiva nell'abitacolo della sua 4x4 verde militare, disteso come una mummia nel sacco a pelo, come con il barbone mesopotanico increspato dal respiro. Batteghi a finestrino. Si assoddiscatto, come un lagunare allenato a situazioni estreme. Andammo a farci una buona colazione nella città mezza deserta. Bevendo il caffè, disse, non potevo partire senza vederti. Stava per andare in Albania, a dare una mano nei campi profughi. Aveva preso un periodo di aspettativa dal lavoro, le ferie non bastavano. Voleva star fuori molto a lungo. La barba è la mia bandiera, disse. E raccontò che durante la naia, quando faceva l'alpino in Piemonte, aveva rifiutato di tagliarsela andando incontro per questo a non pochi guai. Stava in caserma con tre dei suoi cinque fratelli, caso unico nella storia dell'Italia democratica. Parlò del film di Custurizza, Gatto nero, Gatto bianco e dei simboli in esso contenuti sul gioco tra il bene e il male, la morte e la vita. Quando sparì come un bracconiere a bordo della jeep, sentì che non mi aveva detto tutto. Francesco aveva un suo disegno che non comunicava. Mi aveva chiesto contatti, numeri di telefono, informazioni logistiche, appoggi presso l'ONU. Ma mi era sembrato un pretesto. Lui voleva altro. Forse un viatico, un lascia passare per un viaggio completamente nuovo, in terre incognite. Ma non arrivai a pensare in quel momento che la sua voglia di fare, unita alla professione cristiana e al suo essere di montagna, avrebbe portato la testimonianza fino al sacrificio. Mi telefonò ancora due volte. La prima da Napoli, dove era andato a trovare il suo ex comandante degli Alpini, ora generale Borriero. Anche a lui aveva chiesto consigli, ma l'incontro, disse, non gli aveva chiarito nulla. Poi da Kukes, in Albania, dove aveva visto l'inferno di decine di migliaia di rifugiati nelle tende sotto la pioggia nel fango. Aveva cercato di rendersi utile come volontario, ma senza riuscirci. Il problema, disse, stava altrove, in Kosovo. Fu il suo ultimo segnale. Sparì senza chiamare la famiglia, i cinque fratelli. Nessuno. Il resto è storia nota. La morte in battaglia con gli uomini dell'UCC, le forze armate indipendentiste del Kosovo. La sepoltura, l'imbarazzante disinteresse delle autorità italiane e nemmeno una riga di condoglianze alla famiglia. A distanza di anni la sua figura mi inquieta ancora. Incontro il barbuto biellese nei sogni, a spasso per una cengia di montagna o nelle periferie metropolitane. Mi compare accanto, a sorpresa, nel suo stile. A volte penso che non sia affatto morto. Un po' alla volta ho appreso altri particolari su di lui. Del suo lavoro in aiuto dei drogati, dell'impegno umanitario in condizioni estreme, fino alla Bosnia. Anche quei pezzi di vita rimergevano all'improvvisa, all'improvviso. Da amici albanesi, da operatori sociali, volontari dell'ex Jugoslavia, oppure dal fratello Alfredo, che mi cercò subito dopo la sua morte in battaglia e mi aiutò a capire. C'erano poesie, racconti che lui aveva lasciato, storie delicate di fiori, montagne, alberi, donne perdute. Come tutti i montanari solitari, Francesco sapeva la forza delle parole. Le parole mandate a memoria lo seguivano come una litania in quelle valli dei nomi favolosi, dove i fiumi portano il nome degli elfi, elvo e delle sacre fonti, Sar, oggi cervo. Se apri il cassetto dove hai rinchiuso il cuore, trovi parole, parole semplici, grandi, buone, che ti accompagnano nel cammino. Quando si parla, diceva continuamente, non si muore, ma sapeva anche che la parola senza l'azione è un limite grave, se non un male. Nella sua vita e nella sua morte c'era tutta la storia di quel magnifico luogo rifugio ai piedi del Rosa, dove pianura e alpe si scontrano senza mediazioni. C'erano i pastori uraloaltici, altaici, uraloaltaici, che l'avevano colonizzata. I nomadi israeliti, che avevano trovato rifugio in villaggi sperduti, come i Trevirio, il cognome di sua madre. I martiri cristiani della regione Tebea, venerati spontaneamente dalle genti di montagna. Un paganesimo delle fonti e delle sacre cime che sposò il cristianesimo e generò formidabili santuari come quello di Europa, costruito dagli antenati dei Bider. Il mito dei Valsir, il popolo venuto dal nord che colonizzò le Alpi a quote mai sfiorate da insediamenti umani. La tradizione mazziniana di una terra cattolica, laica e religiosissima insieme, come succede spesso sulle montagne. Forse la sua faccia mi aveva colpito per questo. Lo portava scritto come in un libro. Era nato in montagna, nell'Alpe desate, da Serre, perché i genitori, che siano rifugiati lassù al tempo delle leggi razziali, avevano eletto quella malga fuori dal mondo al rifugio dell'anima. Primo genito di sei fratelli, beve avidamente le storie del luogo ed ebbe un'infanzia ambrada. Il papà la sera cantava con la chitarra accanto al fuoco, finché tutti cadevano addormentati. Crebbe seguendo codici d'onore non scritti. Capì da un leggendario armaiolo, Arnido Grosso, che la civiltà di montagna era un tesoro di solidarietà e andava difesa dai sacrileggi della civiltà moderna. Dalla madre Maria, una grandonna, imparò un impegno cristiano fatto di testimonianze generose, forti, totali. Una volta che il male lo riconosci, devi affrontarlo. Era questa la filosofia di Francesco. Da quel momento il male diventa una questione personale e non puoi più tirarti indietro. Per combattere il male, la generazione prima della sua aveva affrontato il nazifascismo su quelle montagne. Per lo stesso motivo la guerra in Bosnia non poteva risolversi con qualche camion di medicine. Per questo Bider era entrato nell'UCC. A un friulano che lo aveva incontrato in Albania, in una tendopoli di profughi sommersa dal fango, poco prima di morire, aveva confidato. Io sono un pacifista e un antimilitarista, ma mi sono arruolato perché voglio battermi per quel bambino che ci sta chiedendo le lemosina e soprattutto per quella bambina che ci mostra la lingua in mezzo a tutta questa desolazione. Prima di partire incontro al suo destino, ai fratelli aveva raccontato un sogno. Sua madre era Dio e gli diceva che avrebbe guidato una moltitudine immensa in cima a una montagna del Kosovo e lì sarebbe stato ucciso. Quando gli venne chiesto che senso avesse morire se c'era ormai la certezza di una fine rapida del conflitto, grazie alle bombe della Nato, rispose. Questi non sono solo sogni come lo sono le guerre chirurgiche. Le guerre sono tutte uguali, uomo contro uomo. Partì e Biella non lo vide mai più. Sono migliaia di anni, racconta Alfredo Bider, che la gente di queste montagne attende da una grotta il verificarsi di un evento straordinario. Forse è stato per questo che mio fratello Francesco ha voluto che da una grotta della sua valle uscisse il suo libro. L'ho trovato quasi per caso, un giorno. Stava avvolto in un sacco di plastica nera. Lui aveva disseminato le sue montagne di segni che gli sopravvissero. Quel manoscritto mi fulminò. Forse Francesco voleva ridare voce ai sogni millenari dei montanari della sua terra. Voleva cantare la poesia della sua civiltà. Un mondo dato per morente, ma ancora vivo, prepotentemente, a dispetto di ogni logica e di ogni economia. Un giorno tornerò, in segreto, in un luogo che non svelerò mai, a cercare le due linci che Francesco ha liberato prima di morire. Le aveva comprate in Bosnia da due briganti dei boschi, come lui. Le aveva pagate in marchi e poi aveva passato quattro frontiere di notte senza farsi beccare. Era innamorato dei boschi bosniaci. Le aveva conosciuti con un guardiacaccia di tito di nome Feim. Racconta Alfredo. All'alba me lo sono visto arrivare con le linci negli scatoloni e gli ho chiesto come è fatto. Lui ha risposto in Jugoslavia nema problema. E la frontiera italiana? Sono passato per un piccolo valico fra Trieste e Gorizia, dove a una certa ora i doganieri vanno a dormire. Ho alzato la sbarra da solo e sono andato via. Gli ho detto sei scemo. Lui mi ha risposto volevo che un po' di Bosnia camminasse anche qui.